La promessa d'amore Gossip wedding, Gemma e Giorgio smascherati, la promessa d'amore A quanto pare la storia d'amore tra Gemma e Giorgio di Uomini e Donne non sarebbe ancora finita del tutto e potrebbe Eserci ancora una piccola possibilità di rivederli di nuovo assieme entro la fine di questa edizione. Le ultimissime di Gossip di queste ore, infatti, rivelano che tra i due protagonisti del Trono Over che è stato un netto riavvicinamento nel corso delle ultime giornate. Complice anche la partecipazione che hanno fatto assieme sul palco del Maurizio Costanzo Show. E ancora amore tra Gemma e Giorgio di Uomini e Donne? Ecco le novità. Questo giovedì sera, infatti, Gemma e Giorgio sono stati ospiti insieme al Costanzo Show, dove abbiamo visto che si sono primi concessi. Un ballo di coppia e poi anche un nuovo bacio a stampa che avrebbe riacceso i sensi della passione in Gemma. La dama torinese qualche giorno fa aveva ammesso di non voler più sentir parlare del suo ex fidanzato, rivelando di esserci rimasta molto male dal modo in cui aveva parlato di lei. Umiliandola nel momento in cui parlava della loro relazione che riteneva improntata solo sul sesso. In quell'occasione Gemma perse le staffe e disse che Giorgio le aveva mancato di rispetto e quindi non se la sentiva più di correre dietro a tale persona. Ma poi col passare delle settimane ha nuovamente cambiato opinione. Le ultimissime di gossip di queste ore su Uomini e Donne, infatti, rivelano che dietro le quinte del Costanzo Show ci sarebbero stati dei risvolti clamorosi tra i due. La promessa d'amore tra Gemma e Giorgio. Nel momento in cui Gemma e Giorgio hanno ballato assieme si sarebbero fatti una promessa importante. Complice il fatto che i due non sapessero di avere i microfoni aperti, proprio come accade durante le registrazioni di Uomini e Donne. Ecco allora che sia Gemma sia Giorgio si sarebbero detti di volersi ancora e in un certo modo di voler riprovare a mettere insieme la loro storia d'amore. Un fuori onda clamoroso che ovviamente potrebbe finire in una delle prossime registrazioni di Uomini e Donne Tronover, che fino alla fine di questa edizione darà ampio spazio alle vicende della coppia. Cosa dobbiamo aspettarci a questo punto dopo il ballo d'amore della promessa che si sono scambiati sul palco del Costanzo Show?. Ci sarà davvero il tanto atteso ritorno di Fiamma oppure no? Vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi della coppia e vi invitiamo a seguire il nostro canale ufficiale di Uomini e Donne. Grazie a tutti.